Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 scatta il cambio dell'ora. Dall'ora legale si tornerà come ogni anno all'ora solare, per cui le lancette dell'orologio andranno spostate 60 minuti indietro. I dispositivi connessi si aggiorneranno automaticamente. Dalle 3 del mattino si passerà alle 2 del mattino, di conseguenza si potrà dormire un'ora in più. In questo modo si potrà godere di un'ora di luce in più al mattino, ma complici anche le ore di luce in diminuzione fino al solstizio d'inverno, 21 dicembre 2024, farà buio prima la sera. L'ora solare rimarrà in vigore fino all'ultimo fine settimana di marzo 2025. Nel 2025 il passaggio all'ora legale avverrà nella notte tra il 29 e 30 marzo 2025, quando le lancette andranno nuovamente spostate in avanti di un'ora. Il cambio dell'ora è stato introdotto per una questione di ottimizzazione energetica. Infatti l'ora legale permette di sfruttare maggiormente i momenti di luce solare durante la bella stagione, contenendo i consumi di energia elettrica. Stando a un'analisi di Terna, la società che gestisce la rete elettrica italiana, nel periodo compreso tra il 2004 e il 2023, l'ora legale ha contribuito a un risparmio complessivo di 11,7 miliardi di kilowatt ore, corrispondenti circa 2,2 miliardi di euro. Oggi, tuttavia, a causa della diffusione sempre maggiore di fonti di energia rinnovabili e del cambiamento dei consumi, il risparmio energetico dovuto al cambio dell'ora è diventato meno importante. In autunno, invece, l'ora legale lascia il posto all'ora solare per permettere all'organismo di adattarsi ai ritmi naturali di luce e di buio.